Si continua a parlare di debiti fuori bilancio qui a Roseto degli Abruzzi tra l'attuale amministrazione comunale comandata da Sabatino di Girolamo e quella precedente ovviamente governata da Ennio Pavone. Il sindaco di Girolamo invece di pensare a risolvere i problemi della città e soprattutto a rispettare gli impegni che ha preso in campagna elettorale non fa altro che ritornare su cose oramai stucchevoli vecchie perché non ha argomenti. L'argomento è sempre Ennio Pavone. Probabilmente mi temono, questo è evidente perché se parlano sempre di Ennio Pavone probabilmente qualche motivo ce l'avranno. Quello che voglio dire ancora al sindaco è che non mi sembra un coraggioso, non mi sembra un cuor di leone. Prima lancia le pietre e poi nasconde la mano. Continua a parlare di buchi di bilancio sapendo in realtà che commette dei reati parlando di questo perché non c'è stato mai nessun buco. Il buco è quando nel bilancio si falsificano dei documenti per nascondere qualcosa a qualcuno. In realtà i bilanci del comune di Rosè sono stati sempre fatti nella massima chiarezza e i bilanci possono chiudere in avanzo e in disavanzo. C'è stato un bilancio che si è chiuso in disavanzo e che andava coperto in tre anni. Che avrebbe coperto la mia amministrazione se avessimo vinto le elezioni perché Pavone non era scomparso. Si è ricandidato e è arrivato al ballottaggio. E in più deve riconoscere dei debiti fuori bilancio. L'ho detto in consiglio, l'ho scritto e probabilmente mi attiverò se non verrà riconosciuto il debito fuori bilancio del CIRSU di 1.300.000 euro oltre interessi, cosa che io dicevo già dal 2011. Credo che Sabatino di Girolamo sia la peggiore espressione veramente che questa città come sindaco abbia mai avuto anche nel gusto e negli atteggiamenti. Dopo la figuraccia fatta per esempio con Atri per il commissariato la figuraccia fatta anche che continua a fare quando parla addirittura in colpa del sindaco precedente dove devono essere messe le salme dopo tre anni e mezzo. Cosa di cattivissimo gusto che non è mai avvenuto in questa città. Nonostante gli esposti e le denunce che ha fatto la procura della Corte dei Conti, la procura della Repubblica contro di noi. Io credo che Sabatino di Girolamo e la sua amministrazione, quindi chi lo ha portato lì, quindi il gruppo Ginobili sostanzialmente ma anche quella parte che lo ha sostenuto e l'ha votato al ballottaggio, abbia una grande responsabilità politica cioè abbia la responsabilità politica di aver fatto vincere un sindaco, un'amministrazione assolutamente inadeguata assolutamente non all'altezza che ha ridotto Roseto come ha ridotto.